Non è raro vedere alcuni titoli di successo venire ripubblicati circa un anno dopo in una versione che comprende tutti i DLC pubblicati per quel titolo. Netherrealm Studios non si sottrae a questa pratica, pubblicando circa un anno dopo il loro Mortal Kombat X una versione extra large chiamata appunto Mortal Kombat XL. Una versione che sostanzialmente prende le basi del già ottimo Mortal Kombat X per inserire invece tutti i contenuti usciti fino ad ora per il picchiaduro. Vediamo quindi la nostra video recensione di Mortal Kombat XL. Come abbiamo già detto la base di partenza è quella del solido Mortal Kombat X, quindi non una versione riveduta e corretta come magari accade con i diversi Street Fighter di Capcom. Infatti non troveremo aggiunte alla struttura di partenza del titolo. Non ci saranno nuovi capitoli dedicati allo story mode, non ci saranno modalità dedicate ed esclusive per gli acquirenti dei pacchetti aggiuntivi, ma tutta l'esperienza base sarà sempre la medesima del titolo già molto ricco di contenuti, grazie comunque anche a una storia dal taglio cinematografico, le diverse torri, la cripta, insomma Mortal Kombat X già di base da molti contenuti per l'utente. I nuovi contenuti di Mortal Kombat XL sono infatti tutti da ritrovare nel roster dei personaggi, ora aumentato bene a 33 unità, grazie ai nuovi personaggi aggiunti tramite DLC. Troviamo infatti Dagoro, disponibile unicamente con il preordine di Mortal Kombat X, fino allo xenomorfo di Alien, per non dimenticarci di Leatherface o Jason. Mortal Kombat X, quindi tra i suoi nuovi personaggi, trova quattro aggiunte dal mondo del cinema, che sono appunto l'Alien, il Predator, Jason e Faccia di Cuoio, e altre cinque aggiunte invece provenienti dai diversi capitoli delle serie, come appunto Goro, Triborg, Borai Cho, Tanya e Tremor. Ovviamente tutti i personaggi aggiunti, come appunto Mortal Kombat X di base, hanno tre stili differenti con cui andare a modificare anche di molto il proprio moveset e le proprie abilità in campo. Per tirare una riga di riassunto, quindi questo Mortal Kombat XL sarebbe Mortal Kombat X, comprensivo dei due Mortal Kombat Pack pubblicati nell'arco di vita di Mortal Kombat X. Trovando ne aggiunta anche il Medieval Skin Pack e il nuovo Stage Fossa, che riprende molto gli stili dei vecchi Mortal Kombat. Mortal Kombat XL quindi si presenta come quel prodotto che si rivolge a chi vuole l'esperienza completa di tutti i pacchetti aggiuntivi, appunto per chi vuole la versione definitiva del picchio duro NetherRealm Studios. Infatti per avere questa versione XL è possibile operare in due vie diverse, o acquistare appunto le edizioni XL ora disponibili nei negozi, oppure per chi avesse già il Mortal Kombat X, di comprare negli store digitali il Mortal Kombat XL Pack, che al costo di 25€ appunto aggiorna la versione di Mortal Kombat X a quella XL, senza dover appunto dover vendere la propria copia per acquistarla un'altra. La domanda ovviamente principale che tutti si pongono è quella se questa versione meriti effettivamente un acquisto o meno. Certo, come abbiamo già detto, Mortal Kombat X è già un titolo molto solido e molto molto longevo anche di suo, senza pacchetti aggiuntivi. Quindi questa nuova versione extra large si rivolge ovviamente a chi è interessato maggiormente ad un numero di combattenti in più, e specialmente per gli appassionati del cinema, per quei quattro personaggi che sicuramente sono fondamentali per tutti i fan dell'horror, comunque del sci-fi, ma anche i fan dei capitoli della serie si troveranno abbastanza soddisfatti con appunto la presenza di Goro, o anche semplicemente Triborg, che con i suoi tre stili diversi va a replicare tre moveset di personaggi che non sono in Mortal Kombat X. Quindi in sostanza in Mortal Kombat XL troviamo diverse skin, abbastanza fini a se stesse, dove personaggi e una rena in più. Rimane poi ovviamente l'ottimo comparto tecnico che già muoveva Mortal Kombat X, trovando a schermo personaggi resi ottimamente insieme ad arene ben costruite, Lo stile realistico quindi rende l'avvenenza di Mortal Kombat una gioia da guardare, per non parlare comunque della soddisfazione per la sensazione dei colpi ricevuti e inferti, e il macro spettacolo che ogni mossa a raggi X offre. Mortal Kombat XL quindi in questa versione si conferma come picchiadoro maledettamente longevo, anche senza doversi buttare subito nella controparte online, garantendo una vastissima scelta anche solo nel trovare il proprio personaggio preferito tra i 33 presenti. Mortal Kombat XL rappresenta quindi quel titolo decisamente appetibile per tutti coloro che vogliono aumentare ancora di più il roster dei personaggi del titolo, ma che appunto a conti fatti non va ad aggiungere molto altro rispetto all'esperienza che già Mortal Kombat X offreva. La versione extra large del picchiaduro è ovviamente disponibile per PlayStation 4 e Xbox One, lasciando però indietro appunto i giocatori PC, forse per lo scarso successo che ha avuto il picchiaduro su quella piattaforma. E con questo vi lasciamo a qualche video di gameplay di qualche match e noi di Readball vi ricordiamo come sempre di lasciare un like, scrivere qualche commento e leggere anche la recensione testuale che trovate nella descrizione del video. Da Teresco è tutto, per Readball.com un salutone, alla prossima! Ora puoi morire! Grazie a tutti! Grazie a tutti!